La nostra attenzione va ora al rigeneratore d'asfalto KM4000, disponibile nelle opzioni propano o diesel. È alimentato da due bombole attivate separatamente grazie ad un convertitore. Il macchinario può funzionare quindi anche quando una delle due bombole è scarica. L'accensione del termostato è molto semplice, tramite un generatore a basso voltaggio senza il bisogno di batterie o collegamenti esterni. Si può variare la temperatura del termostato, abbassarla durante la notte ed alzarla in fase attiva. Il coperchio è isolato, si apre completamente e può essere bloccato da un braccio di sicurezza. La porta di scarico ha un piano inclinato e favorisce l'uscita dell'asfalto che può essere accumulato e riscaldato in 8-10 ore. Il KM8000 è il modello più grande, ha il doppio della capacità ed è dotato di due porti di carico e due porti di scarico. Ed ha altre opzioni quali rastrelli, serbatoio di riscaldamento e montacarichi. Chiama ora il nostro reparto vendite e informati sull'utile reale dell'analisi di investimento. KM International, la scelta dei professionisti dell'asfalto su scala mondiale.